Wait for official instructions Wait my ass People I love you back Allora qui è il presidente che mi parla signori Con la sua affidata guardia del corpo Metalaron Nome in codice Comunque bentornati sul canale di Cyber Hornet Qui appunto ripeto che è il presidente che vi parla E Oggi Come avete notato Già Siamo su Le 4 Dead Le 4 Dead 2 signori Un vecchio gioco da noi Insomma Più che trattato Vi consiglio di vedere il episodio 2-5 Perché ha un finale che È bello davvero bello Ma tanto 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 bello Adesso innanzitutto abbiamo dovuto far buggare l'intera esistenza di questo gioco Ma oggi su cos'è che giocheremo? Non sarà il solito avversario dello schifo Praticamente giocheremo su Tanks Playground Che è Una mappa della comunità Una mappa del workshop della comunità del cazzo No dai sono bravi quali del workshop No dai del cazzo vuol dire che sono bravi Ah ok C'è di merda allora Praticamente In questa mappa l'obiettivo è sopravvivere a un ordo di Tankar Ravati Che gli va bene qualunque buco Esatto Allora la particolarità sarà che io devo sparare E io devo correre Nel senso ma non è che abbiamo due personaggi diversi No no lui sta tenendo il mouse Scusa tenendo il mouse con una sensibilità di poco bassa Scusa sono abituato Infatti E lui invece Come si prendevano le cose? E Con E Siamo finiti ragazzi Allora cosa che prendo? Prendi qualsiasi cosa Ti assicuro è inutile sparargli a questi Ok C'è un revolver Revolver Bene Che bello che è E l'intervention Girati No 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 aspetta Girati Intervention alza in alto Ok Prendiamo munizioni Kit medici Quella serve Questa Poi il Viagra Che non manca mai E nel Viagra no perché serve O lo tieni l'adrenalina O poi tieni l'adrenalina Ma no teniamo il Viagra Il kit medico Magari il kit medico Magari Ok Motosega Vista laser No la motosega Ma che motosega? Cosa vai contro il tank Vista laser Ok Preparati Premiamo No non prego No Aspetta prendiamo anche una katana Ah no è vero abbiamo già la pistola Tanto non serve Adesso Vediamo Vai lì che premo la radio Dove Ok lì È più vicino Corri E tu corri Io devo È vero io corro Aspetta Girati Dove sono? Appariranno sul tetto della scasa Girati Eccolo Arrivano Eccoli Arrivano Corri Destra 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 Corri 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 Io non mi giro Non mi giro Non girati Non giro Aspetta E se vi lancio una bella molo Non succede niente Ok Dimmi quando sei pronto Non ancora Stiamo cercando Ogni tanto girati Perché per controllare la situazione Mi giro Ok Non ci stanno più seguendo Perché sta canzone? Giro di giro di sinistra No Sul ponticello Sul ponticello Morire Corri 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 Ho messa Quando arriva Anche che adesso Mi giro Per vedere Se Ok Ho paura Io Sento voci Sento Tanakh merda stiamo andando nell'occhio del ciclone c'è un po' un esercito che ci vuole anche là davanti vedo volare la scaletta stanno cercando di pigliare ti cecchino sali sali corri 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 c'entriamo di cerchiamo di centro madonna le cecchinate il piano non potete salire anche il mandingo tra l'altro sinistra sinistra mi sono confuso dalla testa ci mandiamo in trappola giustamente l c'è una macchina a caso a sinistra buttiamoci giù no sto scherzando mi stavo girando non c'è niente qui e continuiamo a girare che magari si corri 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 girati girati nooo dobbiamo cos'è che è caduta non ho idea forse il mio cellulare forse la mia chiavetta forse la mia e si buggò in un mondo dobbiamo buggarci dobbiamo affinare questa tecnica di digi che io corro e tu ti guardi a tu ok bene ah è vero che devo prenderla io reloading reloading ho detto non c'è nessuno che mi sceglie no girati girati kit medico giustamente kit medico questo è il nostro kit medico girati prendi una magnum lancia granate con magari li rallentiamo magari magicamente però il caffè prendiamo il caffè no la nostra missione sarà trasportarci dietro la macchina del caffè certo guarda aspetta ricarica ok ok salta via dobbiamo ciao vai via il caffè l'hai già persa era in garanzia tanto allora allora le tazzine no 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 le tazzine corri ho avviato corri le tazzine io volevo le tazzine vedi che ho paura cos'è sto girati girati corri corri io corro cioè giusto sotto 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 sì sei sicuro basta con sto iieie no 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 sento anche provenire stai pronto ma con i brutti prima almeno non c'erano occhio prima almeno non c'erano preso c'erano solo un johnny cage e basta occhio corri 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 dentro quel cosa no corri 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 no 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 via via come la macchina in battle b4 no con l'adrenalina adrenalina adrenalina uuuu 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 fanno pari andiamo avanti e sfondo i colpi di tank corri 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 occhio occhio davanti occhio davanti cecchinate che ci tirano ma lo senti quello che canta merda corri non li rallenti per il cazzo e l'urlo stiamo andando un po' le guarda in faccia la tua morte prima di morire morite curati curati morirò combattendo curati curati dai da dove no destra destra almeno no no ma sono ovunque è ovunque l'angelo di cui t'ha preso e poi guarda come festeggiano i boss tutti i fieri fomentati che si muovono e si paga ancora al mondo da notare che la scella di slender in basso a destra è allora dai voglio una padella una padella si prendiamo una padella a posto la pistola ce la fai cioè ero sbagliato adesso siamo attrezzati armati per sconfiggere il tank ok ma forse sai che sono meglio le pillole armiamoci solo di una padella andiamo andiamo uno lo voglio ammazzare però prima prendiamo il medico uno lo voglio ammazzare dai contro il primo contro il primo che ci capita corriamo incontro gli esponenti direi che vinciamo dov'è dov'è andiamo alla carica che bomba inizia bene no scherzavo è come affrontare the rock con un accendino dai corri dei pezzi gialli sali su quelle scale corri corri un'idea incendiamo le scale così chissà destra c'è una macchina aria sinistra sinistra rifugiamoci nella macchina non mi sembra una buona idea non succederà niente di sicuro no 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 dove vado dove vado sono circondati vai avanti vai 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 che loro sono stupidi mi sa che mi hanno sentito stupidi quando sono in uno ho sentito cracker 08 la gamma ma è avanti a correre attimo vuoi vedere un pezzo baggato se no sinceramente no ma sentili sai che teoricamente c'erano anche trappole per farli fuori i tank dove dove sono quasi impossibili dove ti faccio vedere entra qua sotto guarda che succede vai sotto ok girati corri guarda sali 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 ragazzi che arrivano scada si è durati 32 dell'astanza con i tank armati di cinghia va bene direi di passare il suo avversario dai passiamo il suo avversario Sempre Mamma mia No allora vi consigliamo questa mappa qui Tanks Playground si chiama Ci si diverte perché Si può sopravvivere anche a volte tanto Poi se uno mira l'altro Cercatore In due no Avversario col charger minchia in due la vedo brutta Fai partita veloce massima Tanto per rovinare la partita qualcuno No ma ragazzi era da un sacco di tempo Che non toccavamo questo gioco Si è vero rimane sempre bello Dicono che faranno un tre Però È bello è sempre bello Piccola ma caratteristica Piccola ma No no fatti i zombie Escono tutti e c'è anche tu Usciamo da zombie Però ormai anche ieri Ho notato che Ci gioca un poco Non so come mai Cioè seriamente Stavo scherzando ragazzi Ovviamente E no E vedi che c'è Rochelle però Cioè c'è un bot C'è un bot Capita E mi sa che Vuol dire che non siamo zombie Molto bene Ragazzi Allora Prima su Battlefield Vai a fanculo Lui cara Non stai Metti la clip dopo Dopo la metto ragazzi In Battlefield c'è riuscita una cosa Epica Cioè veramente Volevo caricare per DC4 una macchina Però ce l'hanno fottuta Ce l'hanno fottuta l'ultimo Gli alleati Sono andatine per vendicarci Inizia Sei morto Iniziamo col massacro Vedo già No 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 Sì sì siamo zombie Siamo zombie Però è già finita la partita Perché vedo Eldis che corre un charger Che si sta prestando Mi sa che Eldis farà una brutta fine Cioè no no Ok E guarda Lantern 2 è proprio la cosa più giusta del mondo Prendiamolo questo Prendiamolo Nascondite Abbassati con control Fai un passo indietro Vai Vai muori Tieni premuto control Faccio io il resto Perché non si è attivata la moto di Hitler ragazzi Ma morca Il giochi Ma l'ho rubato il giochi Ma il giochi Cari spi Questa è la mia fredda Questa è la morte Questa è la morte Questa è la morte Guardalo guardalo Boom bitch Guarda ho già inventato il remix perfetto Boom bitch Get out of the way Guardalo Guardalo lui tutto fiero Si lancia No niente va bene Aveva capito di essere Ma anche adesso tocca Ciao smoker Guarda perché si bugga la lingua dello smoker Andiamo a esplorare le profondità marine E' diventato far sky il gioco Non so se sapete così Tap Iw to You have Cos'è? To you have weapons Ah no è un punto esclamativo Devi scrivere Perché? Si ok ma adesso non è capito E si è bloccato tutto Perché? Si è bloccato tutto Con questo orso Si ok ma adesso non è capito O gioco che io di calci al computer Non li ho tirati Oddio Si è bloccato con si ok ma adesso non è capito Mi fa Ti sa che devi fare arte f4 No si è Quando ci sono io non devi registrare Ha proprio smesso di funzionare così dal niente Ah spero che sta registrando comunque No fraps tipo se ne sarà andato a fanculo Ma questo si sta andando avanti Un mini 17-18 E fa vedere fraps No dai va anche bene dai Potremmo anche copiantarla qua Si aspetta E però fa vedere fraps che cazzo No fraps l'ha smesso Ma comunque se ne metteremo uno sfondo Vabbè allora comunque col Dici che chiudiamo la partita Col gioco che si è Buggato Bloccato Si è bloccato il mondo Con l'orso Dici che l'ha registrato Allora ragazzi speriamo di poter fare una prossima puntata presto Che tanto ci vediamo su steam Oltre che ogni giorno a scuola Ma vabbè Purtroppo ogni giorno a scuola Non per lui ma per la scuola Perciò potremmo anche metterci d'accordo Così Stasera facciamo un nuovo episodio Ditemi se vi sto simpatico Se non vi sto simpatico cazzi vostri Perché tanto Tantanto c'è te voi che siete venuti qua Dai ragazzi allora Niente al prossimo episodio delle forde a due Che dai adesso vediamo Riusciremo a riprendere Probabilmente anche qualcosa su team fortress A riprendere marcio Dai Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti